The Social Museum è la prima struttura in Sicilia e la seconda nel sud Italia con installazioni dedicate agli amanti dell'arte, della fotografia, dei social e dei content creator. Un locale di oltre 200 metri quadri nel cuore di Palermo che offre più di 25 installazioni ideate per trasportare il fruitore in universi colorati e fantastici come piscine di palline e pareti piene di arcobaleni luminosi. Il progetto The Social Museum nasce quest'anno dall'idea di tre ragazzi palermitani Flavia Di Gaudio, Marco Di Gaudio e Fabio Bustinto. The Social Museum è la primissima selfie room qui in Sicilia, una tra le prime al sud Italia. Una selfie room è uno spazio con delle installazioni dove la gente serenamente sia i privati che i commerciali possono venire qui a fruire dei nostri allestimenti. In questo posto sono presenti oltre 25 installazioni che probabilmente a scadenza cambieranno, verranno modificate sicuramente. Siamo molto contenti di aver intercettato questo trend internazionale delle selfie room, finalmente averlo portato anche qui a Palermo, che negli ultimi anni sta crescendo molto dal punto di vista culturale e dell'aspettativa. Abbiamo pensato che anche un'attività di questo tipo potesse essere importante nell'ambito dell'intrattenimento.